ma adesso vado a fare una passeggiata o di là a meno che non sia uscito laggiù con gli altri ragazzi ma non penso l'avrebbero detto domani allenamento sabato che panchina d'eccezione stica cosa non aspettare non aspettare dai simo fammi un gol per me 10 gol vi porta al mech 10 vai a marcare laggiù feroci inizia a guardare le nuvole sarangelo vai vai giovedì 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 banco non portarla angelo e non ricominciare con nessuno dai 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 ancora 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 ce n'hai arriva arriva bravo 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 bravi va bene trovato uno è nostro quello è nostro quello è nostro quello è nostro il dorato e non non l'ha visto dai aspetta aspetta bene grazie kevin c'è bravo kevin che migliora cosa che migliora cosa non si dica eh ma cazzo ma cazzo che ci fate il panino è l' станuto ma ebbe è per questa che è facile incor вниз maurio se voleva segne ci porta il mecco cosa la tripletta adesso che brutto giusta 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 chi è che ha lanciato il pallone dall'altra parte e non l'ha detto ma ditelo almeno che lo andiamo a prendere ma sei lasato conco e chi è quello lì perché io non ci vedo che be a bertino porca ma c'è anche gli occhiali è aperto lo spogliatoio mi hai fatto scassare la foto che hai mandato a fantacalcio è scritto sto lavorando non mi disturbate ci mangiamo il padella di pasta andavo davanti a padella, te ne rendi conto che roba ero va bene va bene dai proc Ubivo oh Rete! Al fanta! Aspetta devo ingramare un po' Mauro Fai un po' finisce il campionato Bravo scorso Questa c'è Battista cosa fa Ma sta panna Carmageddon qui E' il 9 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 Batti bene Batti bene Buona buona Russo Vai scorso Bravo No dai Non si è allungato Seba Seba 1 a 3 Non si è allungato Conco Riparti veloce No dai Non si è allungato Non si è allungato Non si è allungato Non si è allungato E' il 9 E' il 9 E' il 9 Trombe vai, tieniti largo, tieniti largo Buon prossimo, buona scorso, buona al posto sarà guarda dove veniva bravo, buona, buona bravo, buona, buona andata continuo ancora, ancora sino buona, buona buona, buona buona, buona Angelo Angelo prendi lutto Fabio un saluto al pubblico Fabio un saluto al pubblico Fabio un saluto al pubblico Maru Maru 2, 3 2, 3 2, 3 dai 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 posto posto davanti 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 ancelo l' sensor l'chool davanti i di haiрий Anyway conto chi è luca chi è guardata ma ioflow non è l'acqua 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 puoiricare punta 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 oltre bene sei uno contro uno puntalo bene o bene giusto Simo andiamoci oh saliamo 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 forza forza Il nostro corso www.mesmerism.info Passimo! Passimo! Giro, giro, stai là! Bravo, Conco! Bravo, Giuse! Vai, vai! Arriva, arriva, arriva! Dai, dai, dai! Buona! Sta andando! Tacco, attacco, attacco, attacco! Angelo, attacco, Angelo! Porca miseria! Sei uno contro uno, Angelo! Va bene, va bene, bravo! Va bene, corretto! Inghia, che belli che siete! Bastardi, dovete sudare! Bravo, Ciri! Bravo! Bravo, Ciri! Beppe! Non avevamo le pettorine, noi! Ce l'avevate quelle nere! Ce l'avevate Domenico! Nell'armadietto tu hai guardato! Dovevamo avere le pettorine nere da riscaldamento così in campo! Vai, vai! Vai, vai! Sei più veloce! C'è lui, ce l'hai! C'è lui, ce l'hai! Ciri, ciri! Ciri, ciri! Non portare, Ciri! Non portare, sta cavolo di palle! Ciri, ciri, ciri! Giusto! Va bene! Chiedi scusa! Nell'armadietto ci devono essere delle pettorine nere! No! Non quelle sue! Le pettorine nere col bordino dorato! Di dentro! Sarà! Sarà! Ricordami domani! E guarda anche con la chiave sua, apro il vecchio armadietto che non siano ancora lì! Perché c'era un sacchetto di carta della cappa! Ce n'era un set! Un set che l'ho visto! Di carta della cappa? No, c'era un cinesino, bravo! C'erano le pettorine! Avevamo anche i phon! I phon si l'ho visto! Che non sono granché però, insomma! Bravo! 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 Bravo Gianlu! Non fare la battere! Eh... Oh! Comani! Vai dentro! Non fanno le battere! No! 2 metri, 2 metri! Sociale! 2 metri! Raccini! Non far le battere! Batta scavando! Raccina! Raccina! Tronda lungorini! Raccino! Bravo che va a te! Buona, 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 attaccalo, attaccalo, attaccalo uno, solo, solo. Angelo, stai facendo l'attaccante. Appunto, stai facendo l'attaccante. Ciao Berti! Aspetta, gli vado a fare una foto al tuo figlio, che non gliele faccio mai. Vado a fare una foto al figlio, che non gliela faccio mai. Gioca! Lorenzo, se la metti giù non è più facile. Bravo, bravo, Deleu. Dai, 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 dai. Fai un movimento, Alessandro, facciamo un movimento. Manu prima, Manu! Dai, dai, veloce! Veloce, Jacopo! Vigούμε! Vigapore, Viglio! Qualc? Qualc? Vigraft? Sì? lawra di... a vieni Luca, Luca, vieni a prendere il palco vieni a prendere il palco Lore vai 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 che salta Luca devi aumentare non salta, non guardare la palla vai vai lui più cattivo Lorenzo più cattivo trappi metti trappi metti bravo Luca bravo 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 davanti qua l'osco davanti a voi perché la tira meglio ancora Luca ancora Luca andrea 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 the andrea con sempre sintetico andrea andrea dai andrea 103 ma dusty nu Rondesi veloce! Ronda veloce! Due ore, Massi! Non si gira, non si gira, non si gira! Ehi, ancora, ancora! Troppi metri! Troppi metri! Luca, Luca! Seba, Seba! Non mi ascolto! Ma che lo perdi lì, mentre sali, sei venuto al cuore! Oh! Una testa! Seba, sta in piedi! Fermi! 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 Buona, buona, buona. No, 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 trombè! Porca, trombè! Come arriva subito! Si è fatto male. Come arriva subito! Come arriva subito! Come arriva subito! Come arriva subito! Che cattivo sei! Aspetta, con il numero dietro... 17, minchia, Amsic! Aspetta! Mauri, un po' che la partita qua... Inizionate! Comunque è partita da 10 a 0 eh! Minchia! Se vi mette dall'inizio è partita da 10 a 0! Anche 11! Meno male risparmio! Che bello! Cazzo! Ah, solo 10, no? 11! Eh, vaga, 10... Non insegnate! Amora finisce! Eh, manca un minuto! Se arriviamo a 10 non insegnate più! Dai, vati! Oh, ma... L'osservatore del Barcelona quando arriva? Oh, ma che è? Certo! Un fenomeno! Spaccatelo! Porche droga! Posso correre? Bravo Kevin! Bravo! Seguitelo Mauri Russo Work su Youtube! Anche su Instagram per foto! Non ne sta più mettendo! Non ne sta più mettendo! Hashtag voglio animare! Adesso ne ho due o tre pronte! Dopo le faccio in anteprima! Molto strato! Volevi schiare? Con lì! Vedete? Sembra coglione! Sembra coglione! Mica, è serio? È entrata nella parte! Sì! Vabbè, manco contassi quel colpo! Tanto siamo potessi eliminati! Anche lui! Sabato si gioca! Ma... Ma... Che torneo è? Quelli degli ammogliati! Un quadrangolare! Gli sfigati! I poveri! Ma... Diciamo quanto città! Accademia! Non è vero! È vero! È vero! Mandiamo noi lì? Sì! È finisce qua! Io devo andare a pisciare! Piscia qua! Piscia qua! Piscia qua!